Io volevo solo dire che riguardo l'Italia, il Movimento 5 Stelle su segnalazione dei sindacati è quello che si è permesso di denunciare il fatto che sono stati assunti questi dirigenti in maniera, senza farli passare da concorsi pubblici, quindi in maniera assolutamente anticostituzionale e addirittura i numeri erano molto importanti perché 767 dirigenti su 1143 sono stati assunti in quella maniera in base a una leggina ottica fatta dal PD, da Forza Italia, da Mario Monti per il nostro amichetto Melbera e questa poi noi abbiamo denunciato questa cosa, abbiamo detto che sicuramente siccome questi dirigenti sono stati assunti in maniera anticostituzionale, poi di conseguenza dopo gli accettamenti che sarebbero stati fatti tutte le cartelle firmate da questi dirigenti sarebbero poi state nulle, infatti successivamente questo decreto legge, mi pare che è il decreto legge numero 44 del 27 del 2012, mi ricordo bene è stato dichiarato anticostituzionale, ma la cosa comica che era il successore di Befra la signora Rossello Orlanti si è permessa di dire che gli italiani avrebbero fatto meglio a pagare senza fare ricorso, che sarebbe stato una verità di tempo e denaro, ma cosa succede? forse altamente per una volta gli italiani non si sono fatti fottere, è venuto una pioggia di ricorso e fortunatamente tutti accorti, ma io non sono, in questo caso essendo nulle queste cartelle queste cartelle non è come le altre, queste cartelle potevano anche essere contestate anche dopo, perché lì non c'erano lì di dire come se fossero mai esistite, quindi non solo potevano anche essere contestate dopo che fossero arrivate dopo un mese, però addirittura il giudice poteva addirittura annullarle in ufficio senza che il cittadino avesse neanche fatto ricorso perché appunto è come se non erano ormai esistite da parte di contribuzionale, quindi fortunatamente questo è successo e per una volta io direi che la giustizia è triunfata per una volta.